Salve a tutti ragazzi, sono Orto Mosca del Sembro di questo nuovo episodio della serie dell'Ossian Book Siamo in ventana del Superm4, ragazzi Dopo lo scorso episodio dovevamo concluso una eccezionale campagna contro il Regno Unito Che adesso è totalmente in mani italiane Speriamo che sia tutto gestito guardatamente In realtà c'è... ora non so se... sono sbarchi... no Che cazzo ho premuto Questo no? No, non sono sbarchi ma è semplicemente una difesa italiana Allora tra l'altro ci sono le navi russe che si stanno rifornendo nei porti scozzesi Detto ciò, allora nel scorso episodio ci avevamo lasciati con questa invasione Del Brasile che dovevamo cercare di fermare E ci proviamo subito, sblocchiamo il tempo Speriamo di riuscire a buttarla via, è difficile Da qui diciamo di spingere i francesi che erano subito arrivati Bastardi Sono espansi gli americani Niente, penso che questo porto sia perso per sempre in realtà Non vedo una possibilità di riprendere Allora ci proviamo ovviamente ma è molto complicato Questo fronte... brasiliano o sudamericano è... È improponibile ragazzi C'è davvero molto resistente Allora qui abbiamo due spazi di ricerca, anzi di più Va bene questi due li ho messi per finire di ricercare le compagnie E qui... Beh... beh... non ci rimane molto Anzi direi che non ci rimane un calabre, la dottrina Bene, allora noi con... qua Abbiamo il dominio Devastante Continuiamo a vedere Allora qui Vediamo se siamo pronti per lanciare un'offensiva Io penso di no Allora abbiamo sbloccato qualcos'altro Niente di che Sì potremmo andare avanti i bomboli di estrategici Tra l'altro dovremmo mettere anche e produrre degli estrategici E... eccoli qua Prima o poi li produrremo Qui come produzione siamo messi bene Poi perfetto Ora vediamo se riusciamo ad attaccare No niente Puttana vacca Questa situazione è vergognosa Perché le infrastrutture ragazzi fanno cagare Non c'è modo di costruirle perché è tutto in mano loro In mano dei nostri alleati O meglio quelli che dovrebbero essere i nostri alleati Il Peru sta combattendo Anche con il Giappone sta combattendo Qui ma la situazione Sembra grave Morti Venezuela Per capitolare ha fatto 500.000 morti Per uscite 27.000 morti Eh Maledizione Penso che capitolare a breve Sarebbe una brutta perdita Se fosse entrato nell'asse Il Peru Se il Peru Eventualmente fosse entrato nell'asse Invece di entrare nella passione di merda giapponese Questo l'avremmo già vinto Invece no Ha deciso di entrare nella passione Giapponese Che le ha Scavato la forza Praticamente Ha proprio conferito La sconfitta Proprio data in mano Eccolo qua Che vi dicevo Fottuti ragazzi Per cui ci andrebbe bene Se la Germania riuscisse a prendere Questo porto Allora qui siamo pronti Non ancora Manca poco Mh niente Non ce la facciamo Puttana Eva Ce l'abbiamo fatta qua? Buono Non me l'aspettavo Qui sembra che ci stiamo riuscendo anche qua No niente Vabbè già qualcosa però Dai qualcosa abbiamo preso Qualcosa abbiamo preso Possiamo fermarci E vedere che succede Abbiamo già Arginato un pochino Questa espansione Questo sbarco E Ci va bene Ovviamente Dobbiamo un pochino migliorare Quindi qui magari Lanziamo la musica Londra in fiamme Alla Germania sta conquistando tutto Mettiamo Una bella Eroidea alla main Bombe atomiche ragazzi Bene Adesso dovremmo Iniziare una produzione Massiccia Di atomiche Qui non c'è un Niente da produrre Si va Da ricercare anzi In realtà ce l'ho sempre Ma Mi dimentico Siamo per costruire il reattore Anzi Questa è già Iniziata la produzione Però Ci dovrebbero mettere molto Abbiamo nuove divisioni Però Attualmente Non so dove metterle Qui non ho mai avviato L'offensiva ragazzi Avviamola Allora possiamo Mettere qua Nuove divisioni Va Troppo bella Questa qui è la mia musica Preferita Di Airsoft Per un 4 Assoluto Come Il mio trato preferito Da combattere Se fosse un po' più grande Starebbe meglio Ovviamente Il mio trato preferito Da combattere È il Nord Africa Allora qui Siamo pronti No Si deve mettere questo Perfetto Adesso possiamo Provare a lanciare Un'offensiva Niente Allora Fermiamoci E proviamo All'attaccare In questo modo Niente Maledizione Sono troppo forti Ma quante divisioni hanno? 50 In questo pezzo Di merda Canziere navale Disponibili Li mettiamo a fare Più submergibili Motori razzo Facciamo quella reazione Adesso Qui a Germania Come sta andando? È avanzata abbastanza Va bene Ora qui ci sono C'è il Giappone Che rompe i coglioni Poi abbiamo già Due porti Tre porti Che è una roba assurda Come si è messi Qua in Africa Dai Devemo riuscire A far capitolare Questo Sud Africa Ragazzi Qui Malta È stata presa Poi qui anche Le Balearie Sono state prese Ma anche a Cipro Che sembra presidiata Con molte divisioni Torniamo qua Dovremmo riuscire A buttarle giù Ragazzi E se non erro Non abbiamo Vediamo Qui se riusciamo Perché mi sembra No niente E vediamo Se abbiamo Superità aerea Ma non penso Esatto Qui non ce l'abbiamo Abbiamo un sacco Di malos Di rifornimenti Meno il 53 Abbiamo 300 bombardiere attivi 43 cacce E abbiamo 500 cacce Attivi Contro Qui abbiamo Un aeroporto Non posso Mettere Ah non ho aeree Probabilmente Adesso li ho Quindi proviamo A mettere Questi 150 caccia Per dare una mano Ma Andiamo a kamikaze Ragazzi Non lo sapevo Dicevo per dover una mano Ma non penso Serviranno molto Non dovrebbe diventare Neanche giallo Esatto Hanno molto vantaggio Però Dovremmo In realtà Non stiamo producendo caccia Però se avessimo Qualche fabbrica disponibile Vediamo un po' Possiamo fare qualcosa del genere Eh non abbiamo comunque Guadagnato un cazzo No Non possiamo farlo Vediamo un po' Se riusciamo ad essere In una nuova offensiva Adesso Sperando che Stiamo perdendo i rifornimenti Niente La situazione È la medesima Molto male E dobbiamo fare Queste Queste atomiche Qui no I reattori Sembrano andare A avanzare Abbastanza velocemente Possiamo metterli Un altro Qui un altro Boh Confidiamo nei reattori Ovviamente dovremmo anche Produrre Dei strategici Ed è caccia Minchia Dei produrre Troppa roba Non so cosa rimuovere In realtà Non c'è nulla Da rimuovere Facciamo così Togliamo un po' Di Almeno per iniziare La prima linea Produzione di caccia Che ci serviranno Poi vedremo Tanto prima Da produzione Del primo reattore Giace quello un pochino E poi Ovviamente Per la produzione Della prima bomba Ci vuole altrettanto Quindi Vedremo Proviamo lanciare Una nuova offensiva Ragazzi Ma qui non sembra Sembra che nessun attacco Riesca No Non si riesce Più sessione In Brasile È la stessa Minchia Per arrivare A fare Il capitolare Dobbiamo scendere Fino a giù Rio di Janeiro Tutto Dobbiamo fare Cazzo La Germania Sta avanzando Molto Complimenti La Germania Vediamo se riusciamo A lanciare Una nuova offensiva Qua Nuova bombardiera Strategico Ci riusciamo Ottimo Nuova bombardiera Strategico Poi abbiamo Sbloccato Un bel po' Di roba Facciamo Quello nuovo E andiamo A vedere La dottrina Sbloccata Esatto È dottrina Navale No È piena Non possiamo Ancora Mandarla avanti Qui abbiamo Preso Questa provincia Quindi molto bene Ci spostiamo Adesso Vediamo se Ci riusciamo In tempi Decenti Perfetto Perfetto E adesso Ci sistemiamo Qua La diamo Due divisioni Una divisione Carazzata La portiamo A combattere In Africa Questa situazione Stanno davvero Molto bene Se volete Sfondare Vediamo Presuscitare Il capo Il capo Perfetto Perfetto Ho sbagliato, va bene Organizzazione e divisione più 5% Ottimo Qui sono riuscito a sfondare In qualche modo che io Non voglio conoscere Allora dobbiamo insistere qua Vediamo se riusciamo a saccarli Così la prossima volta impareranno A rompere i coglioni Ecco qua, testi di minchia, vi è piaciuto? Non dovrebbero uscire a ritirarsi Ragazzi, dovremmo uscire a passare prima noi Oh Cristo come l'ho fatta Ottimo lavoro, qui Distruggiamo, ma com'è possibile? Ma che cazzo? Ma perché? Andate dentro, bastardi No, se riescono a farli scappare Mi incazzo Riescono a farli scappare tutti Basta, per chi è che si tira? Puttana Eva Tu stai là, coglione No, basta Ma perché riescono sempre a ritirarsi? Oh, ediamo terminati Finalmente Avevamo proprio rotti i coglioni questi Quindi adesso possiamo disporci qui Finalmente e provare a lanciare una nuova offensiva Che dovrebbe portarci Di cosa siamo in negativo? Accorgimento di support Perché? Per la produzione qua Siamo solo più una volta Allora Un enti di support Allora ci serve almeno Quattro fabbriche in più Ci servirebbero anzi Per la produzione ottimale Ma guardate Un sacco di gente Mi manda i fornimenti Anche la Russia Il mio fantoccio Allora Bene Ci hanno abbandonati Allora ci stiamo spostando qua molto lentamente Ma ci stiamo spostando Vediamo 10 nuove divisioni Ottimo Li portiamo in Africa Poi vediamo dove sistemare le divisioni africane Dovremmo un posto sicuramente Oh No No, 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 no Dovremmo supportare questo sbarco ragazzi Ecco dove andranno gli africani Sembra Sembra decente questo sbarco Sembra buono Andiamo subito Qua Speriamo di farcelo in tempo Ragazzi Sembrano I treni sembrano abbastanza Armati Negativo Il segno di 88 equipaggiamenti Puttana vacca Qui stanno lanciando un'offensiva enorme Speriamo che Questo serve Cioè Ci dia una mano Poi per la nostra offensiva Quindi quando saranno ipoteticamente stanchi Stanno attaccando di brutto Stanno proprio schiacciando contro noi E ovviamente per adesso Per adesso è una cosa positiva Vedremo Perché alcune province ce le stanno togliendo Cristo ma Andiamo qua Bene evitiamo di Fermare lo spostamento Perfetto Siamo ridotti un sacco La loro offensiva La loro offensiva ha avuto successo Purtroppo E noi non possiamo fare molto Ci dobbiamo ancora spostare Immaginate un po' Siamo da un casino di tempo Fermi qua E ancora dobbiamo spostarci C'è della resistenza Dove? Già finita Va bene Non ci dice Dove è la resistenza Non lo sappiamo mai ragazzi Questo è pronto Manca solo più questa divisione Bo Aspettiamo Quattro giorni Quindi il 15 Settembre lanciamo l'offensiva 14 E 15 Eh guardate che merda Ma questa sensazione È davvero imbarazzante Ma quante divisioni hanno Per non poter Fare nemmeno un attacco decente Sì questo sbarco Alla fine è stato inutile Guardate l'asse ragazzi Che bestia Insieme è rimasto neutrale Molto strano Eh riusciamo a difendersi Ma neanche Cioè sono davvero troppo forti Vediamo Le infrastrutture davvero troppo di merda Io vorrei sbarcare Anzi a sto punto ci proviamo ragazzi Perché Non possiamo continuare così Quindi proviamo A stendere fino a qua Ma Non garantisco nulla Poi proviamo a fare uno sbarco Promuoviamo Se non io dovrei aver fatto Tutte le tecniche Da sbarco No? Perché non posso sbarcare? Ah perché Da lui non posso farlo Però posso farlo di qua Quindi qui Facciamo così Golfo di guinea Allora Vediamo un po' Questo E a sto punto Sbarchiamo da qua Così non andremo a coprire Quel golfo di guinea Perfetto 80 giorni ragazzi Molto bene Questo sbarco Dovrebbe andare bene Allora Situazione Superiorità aerea Niente Hanno aumentato La loro difesa Semplicemente Quindi nulla Non possiamo ancora fare nulla Allora Le mie divisioni sono arrivate Noto con piacere Che sono arrivate Allora Vediamo quante neve abbiamo Allora Navi 39 Vediamo Produrne di più Ragazzi Vediamo bisogno Di produrne di più Ah Mi avete detto Che posso fare una cosa Tra l'altro Stiamo finalmente Produrne di Produrne di atomiche Mi avevo dimenticato Di questi obiettivi continui Che ci dovrebbe essere Produzione navale Più quanto 20% Facciamolo Me lo avete anche detto Nei commenti Me ne sono dimenticato Davvero un coglione E' utilissimo E' da tanto Che non uso questi obiettivi Continuativi Davvero tanto tempo Io provo a coprire Un po' di territori Nel caso in cui Si vogliono fare Dei sbarchi Qui ovviamente Hanno lo spirito a loro Però Noi ci proviamo Magari Lanciando questa iniziativa Avremo supporto Anche da altre nazioni Dai Siamo 30 su 80 Perfetto Il giorno di sbarco Si avvicina Ragazzi Oggi man è molto forte Però qui Si hanno delle difficoltà Andiamo avanti con Oh cazzo La dottrina aerea Abbiamo Abbiamo utilizzato un sacco di roba Dalla quale non mi sono reso conto Questa è una continuazione Di attaccare Ragazzi Morti 22 milioni Conto 15 milioni Stiamo aumentando un sacco Di morti Tutte e due Tutte e tre Anzi le fazioni Tutte e tre Perché c'è asse E poi c'è Ovviamente La La fazione giapponese E gli alleati 44 su 80 Siamo Abbiamo superato la metà Perfetto Sessione giapponese Quante navi Un sacco di navi Giappone Un sacco di divisioni Davvero Vergognose Vediamo la situazione Comunque Abbastanza risorse Hanno finito di darmi i rifornimenti Vabbè Tanto siamo in positivo Grazie anche a loro Quindi Direi che andiamo bene Mancano pochi giorni Andiamo a nuove divisioni Le portiamo Le portiamo Qua Speriamo che questo sbarco Vada a buon fine ragazzi E abbiamo proprio bisogno Allora 156 324 Stanno minimando i caccia In zona Speriamo che questo Combattimento Questi combattimenti Abbiano Cioè Servano davvero Dai 62 su 80 Ci stiamo quasi riuscendo Ovviamente Mi sono dimenticato Di vedere Iscrivetevi al canale Scrivetevi al canale Se è davvero molto importante Mettetevi piace al video Se il video vi è piaciuto E Lasciate un commento Ricendo cosa ne pensate Di questa serie È sempre molto importante Dai 10 giorni Rimanenti Molto bene Sono tutti preparati Sì 23 Perfetto Dovrebbe andare bene Questo sbarco ragazzi Non vedo Come possano Come possano Respingerlo Cioè È molto difficile Qui continua A non esserci superiorità Oh Sta un po' comparendo In questi combattimenti Stiamo andando bene La situazione delle mie navi Me ne stanno buttando giù un po' 43 No Stanno solo aumentando Perfetto Siamo pronti Per lo sbarco ragazzi Avviamo lo sbarco Speriamo bene Madonna Allora qui Penso che l'offensiva sia inutile Proviamola Esatto Guardate È proprio inutile Non riescono a far nulla Però Mantenendo un po' Vediamo che succede Ma non Non penso che Anche di oltre Vengo da robe verdi Però È troppo lente Quindi È ovvio che sono destinati a cadere Per il fatto che loro Hanno più rifornimenti di noi Non penso che durerà Siamo pronti Vediamo un po' No Ci sono divisioni da presidiare Merda Speriamo non siano tante Oh Cristo Non ci credo 23 contro 2 Stiamo perdendo Ragazzi Spiegatemi questo Spiegatemelo per favore Perché 23 contro 2 Ma perché perdiamo Eh Eh Abbiamo perso 23 contro 2 Devo fare anche Dei sbarchi laterali Vabbè Lo organizziamo allora Quindi Questi che stanno qua Li mettiamo qua Li dividiamo in due Facciamo dei sbarchi Laterali Laterali Oh 15 contro 2 Riescono a resistere Madonna Ma che divisioni sono Che cazzo Le divisioni sono A qualche età Cosa avendo successo Dopo un sacco di tempo E di Di morti Quindi io direi Lasciare questa offensiva Ancora Qui 38 giorni Allora Qui sappiamo che tanto La roba è persa Quindi Rimettiamoci qua Altri Ah no Sono pronti Sempre E appena torno in posizione Posso riavviarlo Ottimo Quindi solo 38 giorni Non dobbiamo aspettare Perfetto Dove cazzo state andando? Ecco No Era solo una cosa finta In realtà Non stiamo sfondando Assolutamente nulla Sono solo gli attacchi momentane Che però esauriscono Perché non abbiamo Organizzazione Vabbè Finché Gli uomini Abbiamo Facciamo questa mattanza Allora Vediamo un po' Quasi pronti Dai 6 giorni Qui invece Sono pronti Già no? Perfetto Questo sbarco A 100% Ragazzi Andrà bene Ve lo assicuro Quindi Vediamo un po' Qui siamo pronti Lì ci volevamo Un po' Di più Va bene Iniziamo a sbarcare Vediamo un po' Stavolta come va Lasciamo sfondando Finalmente Molto bene Così ci liberiamo In questo Brasile Poi Oh E' sbarcato il Giappone In Florida Allora Chiedi accesso militare Prima muovere Le nostre divisioni Ah qui possiamo Potremmo anche attaccare Di qua in realtà Ah io la divisione Qui l'ho spostata È vero Non ne ho Quindi da mobilitare Mi concentriamoci qua Così riusciamo a buttare giù Ovviamente Il Brasile Stanno arrivando Ragazzi Speriamo bene Speriamo bene Madonna Qui ci sono ulteriori sbarchi Ragazzi Come potete vedere Fallimentare Quindi queste divisioni Spagnole Se non interveniamo Sono morte Vediamo un po' Come va Adesso Qui dovremmo uscire a sbarcare I lati Perché non c'è nessuno Ottimo Quindi queste veloci Le mandiamo subito qua Queste di carri Le mandiamo qua Queste di qua E poi le altre rimanenti Facciamo fare dei giretti Un po' strani Quindi facciamo così Non riusciamo Come è possibile Ma che cazzo le divisioni sono Due divisioni Ma resistono un casino Ragazzi Ma questa è Pazzia Non ho mai visto Qualcosa di simile Non ha senso Ragazzi Ma che cazzo è Prendiamo questo porto qua Non ha Non ha senso Non ha fottutamente senso Ma cosa mi vuol dire Ma vi rendete conto Di quello Di questa follia Che stiamo vedendo In questo momento Non vi rendete conto Voi ragazzi È brutale Come cosa Contro 35 divisioni Contro due Mastutte divisioni Perfettamente equipaggiate È vergognoso Mi moriranno tutte Ragazzi Mi moriranno tutte Non ci riusciamo Ancora 15 giorni Di due ricombattimenti Che non porteranno A nessun risultato Dai Non ci credo Ragazzi Ma cosa vuol dire Ma Voi non me lo sapete Spiegare un senso Perché non c'è Voi non potete Spiegarmi perché Io abbia fallito qua Non potete Non ha senso Ragazzi Che divisioni ha Al Brasile Questa me la paga Puttaneva Se me la paga Brasile di merda Ragazzi Che stronzi Guarda Guarda Dio Bastardo Guarda che roba 16 divisioni Di merda Perse Per sempre Non ha senso Ragazzi Che due divisioni Riescano a resistere Così tanto Non ha senso Due divisioni Di fanteria Di merda Il Brasile Me la pagherà Madonna Di brutto Quindi queste divisioni Rimanenti Queste no Sono solo più queste 23 Le mandiamo A combattere Qua Davvero vergognoso Maledetto Brasile Qui dovremmo riuscire a avere terreno libero Guardate il giappone quanto sbarca Madonna Sopra una zia giapponese Il navale È davvero altissima Ragazzi Abbiamo tre atomiche Però non andiamo Aeri che ce le Ci permettono di usarle Di tirarle Anzi Adesso Dovremmo averle Anche se ci vorrà un po' Per produrre i primi Modelli Strategici Vabbè Dovrebbero arrivare presto Le mie divisioni Qui intanto L'asse sta sbarcando Il brutto Negli Stati Uniti Come se non ci fosse un domani Qui io direi Riproverei a lanciare Un'offensiva Quanti rattori abbiamo? 9 rattori In produzione Molto buono Molto buono Boh Qui stanno arrivando Le nostre divisioni Nel prossimo episodio Vedremo cosa Duceremo a fare Tra l'altro Ragazzi Seduzione del Brasile È davvero orgogliosa Due divisioni Rescono a tenere testa A 34 delle mie divisioni Che non è che Le loro divisioni Siano più forze Semplicemente Non ha senso Non ha proprio senso Non ha fottuto senso Ragazzi Non c'è Tutta questa superioreità Non c'è C'è pochissima superioreità C'è Anche potremmo dire Tolerabile Boh Non so che dire Quindi ragazzi Per questo video Ci vediamo il prossimo episodio Della sera Di Sperm 4 Solo con il Luxemburgo Ci vediamo il prossimo episodio E ciao